Ancora problemi dalla regione, questa volta non ci permettono di usare medicinali contro i topi che infestano la lungomare di Salerno, il lungomare più bello d'Europa con i topi più grossi d'Italia, i tedeschi hanno per la verità dei topi molto più grossi, a loro mangiano vius delle crauti, sono dei topi cafoni, dei topi di serie B, la dieta mediterranea fa bene, anche ai topi, ho avuto un'idea grandiosa, facciamo una colletta, compriamo quei bei topi di peluche, che vendono in quel grosso parallelepipedo blu e giallo, li trucchiamo, un po' di rimme, un po' di rossetto, facciamo così tante belle topoline di peluche, la topolina col fulare, la topolina col caschetto biondo, la topolina col perizoma, la topolina col perizoma, così i toponi vanno dalle nostre belle topoline di peluche, che non possono rimanere incinte e impoffete, facciamo fuori un'intera generazione di topi cafoni, che idea straordinaria, li togliamo da mezzo con l'amore, ci libereremo dei topi con un gesto di estrema gentilezza e cortesia, straordinario, straordinario.